ai ristoratori, ai baristi, agli albergatori di Fano, in tutte le marche che hanno tenuto duro ai balneari, un anno di fatica, quindi io spero che quest'estate se gli italiani hanno qualche giorno da fare di vacanza se lo facciano in Italia perché abbiamo il mare più bello del mondo, le montagne più belle del mondo e anche la cucina, oggi mi sono fermato a Marotto e ho fatto, visto che sono a dieta, la merenda con la porchetta non si offendono i vegani, però alle 5 del pomeriggio porchetta e passerina, quindi che tiene sul morale grazie per le firme che mettete, perché visto che la sinistra, la giustizia non la vuole riformare perché i compagni sono abituati a perdere le elezioni ma a provare a vincerle in tribunale e noi vorremmo invece che la legge fosse veramente uguale per tutti e come tutti gli altri lavoratori come il barista se sbaglia paga, il bagnino se sbaglia paga, l'avvocato, l'operaio, l'insegnante, il medico chiunque se sbaglia paga, anche il giudice se sbaglia deve pagare come tutti gli altri perché non si scherza con la libertà e con la vita delle persone, quindi una firma per la riforma della giustizia poi per quello che riguarda, lo diceva Riccardo, la presenza della lega al governo si ha in garanzia che nuove tasse non ne mettono, il segretario del PD proponeva la tassa sui conti correnti la tassa sulle successioni, la tassa sulla casa, noi abbiamo ottenuto ad esempio una cosa che magari riguarda qualcuno che sta passeggiando adesso sul lungomare di Fano, il rinvio di milioni di cartelli di Equitalia al prossimo autunno perché non si può massacrare la gente dopo un anno di Covid c'è tempo per Equitalia, c'è tempo per l'Agenzia dell'Italia, non quest'estate quindi sull'immigrazione, ragazzi qua stiamo lottando, chiedono fra dieci giorni, noi ci siamo posti da soli per il momento non ce l'abbiamo fatta ma vedremo di farcela, chiedono il Green Pass per andare in pizzeria a Fano e a Lampedusa ne sbarcano migliaia senza nessuna riga, senza nessun limite, senza nessun fronte ma a Lampedusa chiede il Green Pass comunque combattere l'immigrazione clandestina si può, l'ho dimostrato pur non essendo un genio al governo certo mi è costato qualche processo ma il 15 settembre quando vado a processo nell'aula bunker antimafia di Palermo per sequestro di persona rischiando io direttamente non qualcun altro, 15 anni di carcere per aver fatto il mio dovere di ministro io vado in quel tribunale a testa alta e a nome vostro abbiamo bisogno dei turisti che pagano e non dei turisti che sbarcano, c'è questa differenza quindi in bocca al lupo noi stiamo cercando di offrire anche il diritto alla salute a tutti però con un principio che per me vale per i vaccini, per le tasse, per tutto quanto io voglio vivere in un paese libero dove la gente sia libera di scegliere libertà di pensiero, libertà di divulgazione, libertà di impresa, libertà di religione, libertà di cura io mi sono vaccinato perché l'ho scelto ma non vedo perché occorra obbligare ragazzine di 12 anni giù le mani dei nostri figli, questo lo dico e lo porto avanti in bocca al lupo grazie perché noi ovviamente ci mettiamo qua con un microfono alla buona sul lungomare di Faglio, non abbiamo le strutture, i palassetti dei compagni però vi dico grazie perché la vostra presenza qua alle 11 di un venerdì sera mi dice che siamo sulla strada giusta e ce la faremo viva Fano, viva l'Italia, viva la Lega grazie, 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 grazie di cuore